Guardiano, l'energia psichica è rilevata dai miei occulti e concentrata in questa zona. Individua la fonte e potresti riuscire a trarre informazioni dall'involucro di Sagira. È possibile che prima di morire abbia scoperto in che modo Sabaton ha rubato la luce del viaggiatore. Ci devono essere indizi qui. Ispeziona l'area. Ho inviato la posizione approssimativa al tuo spettro, anche se non ho nulla di preciso. Rilevo interferenze simili a quelle della piramide tra noi e le coordinate mandate da Ikora. Deve esserci un modo per aggirarle. ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È nulla da offrire. Ricordate, l'entità piramide non si considera né nostra amica, né nostra nemica. Grazie a tutti. 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 Guardiano a terra. Grazie a tutti. 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 Guardiano a tutti. Grazie 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 a tutti. il nome. Non è oscurità, ma qualcosa che la indossa come un mantello. Le fa assumere una forma malvagia. Mi rifiuto di servirlo. Trascorro secoli a esco citare piani, a inventare trucchi, a trovare scappatoie. E poi scelgo il mio nuovo nome. Un uomo con molti nemici e pochi amici. Ma questi amici conoscono dei segreti. Sulla luce, sui nuovi inizi, il mio piano prende forma. Veniva dall'involucro di Sagira, come un'impronta psichica. Un ricordo. Un ricordo di Savathun. E se era davvero quello, vuol dire che ha sfruttato il rapporto tra Icore e Osiride per scoprire qualcosa sulla luce. Qualcosa di pericoloso. Sì! Ehi, 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 cosa hai visto? Un ricordo! Lo sapevo che l'involucro di Sagira ci avrebbe messi sulla strada giusta! Lo sapevo! Ok, ecco il consiglio. Mai sentito parlare di Oryx, re dei corrotti? Fratello di Savathun? Sì? Eh, lo immaginavo. Savathun ha un tempio dedicato a lui. Ehi, so cosa pensi, a chi se ne frega, giusto? Ma in un tempio dedicato a sua sorella Xivu abbiamo trovato l'involucro di Sagira! Pensa a cosa potremmo trovare in quello di Oryx! Bene, quanto al modo di entrarci, a quello ci penso io!